ciao amici di wine tv oggi vi porterò a scoprire un po di toscana qua a villa parmolaia immersa nel verde dove alla mia sinistra abbiamo la val d'orcia e a destra abbiamo siena mi presento io sono daniele rossi sono un giovane chef e mi portato in questa location perché mi ha ispirato veramente tanto a creare delle ricette tutte preferite seguitemi e vi farò scoprire le mie ricette